Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per traffico intenso si segnalano code a tratti tra Calenzano e Aglio e rallentamenti sulla direttissima tra Aglio e il Bivio con la variante di Vali con la Quercia. Verso Roma rallentamenti tra Monte San Savino e Chiusi, spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze un chilometro di coda per traffico intenso tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Aerovest-Ponsacco e tre chilometri di coda per lavori tra San Miniato ed Empoli-Est. Si ricorda che la statale 223 di Paganico è chiusa per circa un chilometro e mezzo in direzione Grosseto nei pressi di Campagnatico a causa di uno smottamento. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!